tu arrivi da un successo importante legato a un progetto che ti hanno affidato estremamente complesso legato a uno spostamento di un grande numero di risorse da un posto all'altro quindi con stress fuoriuscita da comfort zone anche fisica raccontaci un po quel che puoi di questo processo e soprattutto con quali criteri ti sei mosso assolutamente tra l'altro è proprio un esempio che rispecchia secondo me in maniera proprio specifica ed esemplare quello che è la mia attività quotidiana ovviamente questo in un progetto molto grande che poi nel quotidiano è realizzata su attività diciamo più ordinarie qual era la situazione di partenza qual è stata la situazione d'arrivo e quali sono le logiche che hanno guidato questo percorso il mondo dell'informazione di mediaset era suddiviso nell'area diciamo del nord italia quindi milanese in due grandi centri di produzione un centro di produzione a colonio monzese dove venivano prodotte le produzioni di infotainment lo chiamiamo noi come genere televisivo quindi l'approfondimento è un centro storico a cinque chilometri di distanza da colonio monzese che era palazzo dei cigni sede storica dell'informazione in cui erano allocati i programmi di art news quindi vuol dire il tg4 il studio aperto tg con 24 quindi tutta quella che era l'informazione vera e propria che andava in onda a seguito della grande crisi che ha colpito anche il mondo dell'editoria la mia direzione generale devo dire con pensiero molto illuminato e lungimirante ha deciso di attuare una strategia per contrastare la crisi trasformando la crisi in una vera e propria opportunità quindi ha attuato tre leve per far sì che quello che fosse una riduzione di investimenti pubblicitari non si traducesse in una riduzione di prodotto quindi le tre leve che sono state utilizzate sono state quelle della digitalizzazione quindi trasformando un processo produttivo da analogico a digitale quindi è stata fatta un'importantissima innovazione di processo la leva della logistica quindi proprio dell'allocazione fisica delle risorse e dei mezzi di produzione e la leva praticamente della gestione e dell'organizzazione del lavoro quindi è stata fatta un'innovazione non di prodotto non solo di prodotto ma di processo in particolare che cosa abbiamo fatto nell'area di milano 2 erano allocate circa 250 risorse umane tra giornalisti e produttivi in un modello organizzativo specifico per un centro di produzione per far sì che tutte le connessioni produttive non vedessero delle duplicazioni di processi quindi dei costi maggiori abbiamo chiuso fisicamente un centro di produzione e spostato tutte le risorse avvicinandole e inserendole all'interno del centro di colonia monzese le complessità sono state una di tipo produttivo perché chiaramente spostare le informazioni vuol dire spostare un prodotto mentre il prodotto è in onda io quando incontro gli studenti universitari uso sempre come esempio è come se avessimo spostato uno dei più grandi ristoranti di italia senza chiudere la cucina quindi continuando a servire i clienti seduti al tavolo l'altra leva che è stata quella veramente strategica è stata la leva gestionale quindi abbiamo convogliato il pensiero l'energia di tutte le risorse condividendo il fatto che l'operazione che si andava a fare non era quella di contrazione e di riduzione di chiusura di un centro di produzione ma era quella di avvicinarsi al mondo della produzione centrale di colonia monzese per creare nuovi processi produttivi e fare in modo che l'attività di ciascuno non fosse più satellitare rispetto all'azienda ma fosse un elemento determinante per l'azienda che risiede a colonia monzese e fosse il primo tassello di un'importante rinnovazione aziendale che era quello del percorso verso il digitale quindi comunicando in maniera reale trasparente che non si stava effettuando una chiusura una cessazione di attività ma un cambio organizzativo non solo di area ma di azienda quindi trovando quella positività nella trasformazione che ha guidato poi il trasferimento insomma